Con noi anche Armando Brescia, responsabile di distribuzione moderna, nostro partner, quindi partner di Quality World per comunicare i premiati di quest'anno e i valori del premio a tutta la distribuzione. Armando, una battuta su questa fiera, su marca? Sicuramente una fiera che negli anni ha assunto dimensioni davvero importanti, è cresciuta molto, io ricordo una dozzina di anni fa, la prima edizione, c'era un solo padiglione, credo il 21 o il 22, quindi piccolissimo. Oggi siamo in condizioni totalmente cambiate, credo che abbia raggiunto forse per dimensioni la seconda posizione nell'ambito delle fiere europee dietro a PLMA per quel che riguarda l'attenzione e l'esposizione di aziende che si occupano di produrre marche per la distribuzione. Quindi una fiera sicuramente di tutto rispetto, nella quale c'è l'occasione di avere in un unico momento, sia pure nell'ambito di soli due giorni, anzi credo che questo forse sia diventato per il peso specifico che ha assunto la manifestazione, forse un limite, andrebbe aggiunto forse un giorno o addirittura due in più, considerata anche la partecipazione di espositori, ma devo dire è un momento sicuramente significativo e di grande importanza per l'incontro tra quella che è la domanda e l'offerta, quindi c'è la presenza di quasi tutte le catene distributive con un'unica eccezione eccellente, che comincia per E e finisce per A, come tutti sappiamo, ma c'è soprattutto il fiorfiore e il gota delle industrie produttrici sia in ambito food soprattutto che non alimentare.